La campagna sempre più capitale dell'ecomafia, una mattanza silenziosa ed invisibile che con veneni e cemento commette omicidi riferiti nel tempo. 27 reati al giorno per un totale di 3.862 reati accertati di illegalità ambientale, il 14,4% del totale nazionale con 4.279 persone denunciate e 24 arrestate a cui si aggiungono 1.520 sequestri. Un affare gestito da 89 clan criminali. Per il 25esimo anno consecutivo la campagna è maglia nera dell'illegalità ambientale nel ciclo dei rifiuti e del cemento. Un verdetto senza appello che arriva dal rapporto Ecomafia 2019 di Rega Ambiente, una regione ancora sotto attacco ospietato degli ecocriminali. La provincia con il più alto numero di illecidi ambientali si conferma Napoli con 1.360, mentre l'ultima provincia è Avellino con appena 667 reati. Considerando l'arco temporale dal 1997 al 2018, i reati ambientali accertati in campagna sono diventati 93.792 con 77.439 persone denunciate o arrestate e 26.150 sequesti effettuati. La corruzione resta lo strumento principe, il più efficace per aggirare le regole concepite per tutelare l'ambiente e maturare profitti illeciti. Dal gennaio 2010 al 31 maggio 2019 sono state ben 76 le inchieste censite dalla lega ambiente con 638 persone denunciate e 523 arrestate con 87 sequesti effettuati. La campagna dunque rimane saldamente la capitale del traffico illecito di rifiuti con 1.859 infrazioni accettate, il 19,9% sul totale nazionale. La classifica regionale però vede la provincia di Napoli prima a livello nazionale con 454 infrazioni con 497 persone denunciate e 357 sequesti. Segue Avellino con 186 infrazioni, terza la provincia di Caserta con 142, Quarta Salerno con 138 e chiude la provincia di Benevento con appena 43 infrazioni. Sono 119 le inchieste condotte e chiuse dalle forze dell'ordine dal febbraio 2002 al 31 maggio 2019 utilizzando il delitto di organizzazione di traffico illecito dei rifiuti. Complessivamente sono 8 le procure che si sono messe sulle tracce dei trafficanti portando alla denuncia di 734 persone e all'arresto di 447 coinvolgendo circa 180 aziende. Tra le tipologie di rifiuti predilette dai trafficanti ci sono i fanghi industriali e i rifiuti speciali contenenti materiali metallici. Notizia positiva però arriva dal forte calo dei roghi dei rifiuti che lo scorso anno ha colpito la terra dei fuochi che segnano un meno 25% rispetto al 2017. Grazie a tutti.